Se stai cercando un rifugio da questa AFA e dal rumore della città, magari con un bel po' di verde, una casa indipendente, tranquilla, non troppo impegnativa da potersi godere con gli amici, ma anche da soli o con la famiglia, beh, rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao, sono Alan di Garone Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa casa indipendente in vendita. Ci troviamo sul Trebbio, a poco più di 20 km da AFA e qui si trova questa casa indipendente con un'ampia zona giorno, adesso utilizzata come seconda casa, quindi sala diciamo per le mangiate al piano terra e dal piano primo troviamo quattro camere ed un bagno. Ora, le camere attualmente sono tutte singole, ma si può tranquillamente sfruttare e riadattare per creare una camera matrimoniale e due camere singole. Il lotto è di 2.500 metri con alberature ad alto fusto. Come vedete ci sono un sacco di alberi importanti, c'è tantissimo verde e soprattutto, sentite, tantissima pace. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!